buongiorno a tutti allora video particolare perché vado a ruota libera vado a ruota libera perché volevo parlarvi di alcune cose ieri purtroppo i criceti del cellulare perché sta usando i giga del cellulare quindi teoricamente video si doveva caricare più velocemente invece sono stati quasi più lenti che non con la dsl ma lasciamo perdere ogni tanto c'è i criceti in sciopero anche loro avranno avuto anche loro da stare a casa per il coronavirus e quindi andavano più a rilento quello che è comunque volevo parlarvi un attimino di questa situazione che mi preoccupa parecchio non tanto per il coronavirus che come dice la sgarbia uno scarsi virus eppure abbiamo una caterva di morti però ripeto con tutto il rispetto perché non dovrebbe mai morire nessuno per ora un virus che ha un 5 per cento di incidenza fortunatamente nella sfiga e su questo poi ci sono 3000 c'è chi dice che è un virus che ci hanno mandato perché abbiamo fatto il contratto con i cinesi della via della sete allora ce lo vogliono far pagare però mi sembra una gran stupidata visto che sta attaccando tutto il mondo e allora mi viene in mente quei film catastrofici sugli aerei che magari c'è sull'aereo c'è la persona che bisogna eliminare a tutti i costi e per eliminare quella persona fai cadere un aereo muoio 200 persone e non penso che poi c'è la volpe del deserto che ha fatto crollare tutte le borse perché così almeno speculano e quindi magari c'è una speculazione c'è solo una speculazione economica far cadere le borse uno arraffa tutti i titoli che gli interessano poi come le borse si impegnano di nuovo vende e fa i fantamiliardi o i fantamilioni visto che c'è l'euro quindi non sono più fantamiliardi sono fantamilioni ma magari fa anche i fantamiliardi perché ce li ha d'altronde la borsa cade del 6-7% tu acquisti le azioni al 7% in meno come queste si rialzano tu hai investito anche un sacco di soldi prendi un bel 7% di interessi se non di più certo non puoi andare a prendere 1000 euro perché non ti cambia alla vita prenderesti 70 euro qua sono proprio i grossi speculatori che ne approfittano poi altra cosa grave la cina ci dà una mano adesso non si capisce se ce li hanno fatti pagare qualcuno ha detto non è vero che la cina ci ha regalato tutto quello che ci ha regalato li abbiamo pagati non facciamo disinformazione e allora decidano ce li hanno regalati o li dovremo pagare l'europa giustamente se ne fotte perché noi dobbiamo accogliere i profughi noi dobbiamo noi dobbiamo noi dobbiamo noi dobbiamo quando abbiamo bisogno noi se ne fottono altamente le palle io mi auguro quando finisce questa questa situazione sempre che agli stati uniti ce lo permettano perché temo che il fatto di queste esercitazioni casi sono due o è preventivo perché hanno paura che noi usciamo dall'euro e ci mettiamo d'accordo con russia e cina e sarebbe il top perché almeno le nostre aziende non sono più costrette a vendere in austria i loro prodotti perché poi dopo gli austriaci ne vendano ai russi vendendo sotto a prezzo più basso quindi guadagnando il minimo indispensabile per poter fare le cose con con la russia perché sapete che abbiamo c'è l'embarco si può fare l'embarco con la russia tu sputtani tutto tutto il mercato perché te lo dice l'america poi l'america chiude chiude tutto eccetera troppo ha chiuso tutto e chi se ne frega di tutto il resto d'altro nell'america è sempre stata così interveniva nelle guerre quando le faceva comodo o quando la obbligavano nella prima guerra mondiale continuava a dare aiuti all'inghilterra eccetera quando gli affundarono l'usitania gli girarono le balle intervenne e mese fine alla prima guerra mondiale perché grazie agli aiuti la germania poi dopo si dice che la germania ha dovuto smettere di fare la guerra perché i ricchi ebrei hanno smesso di sovvenzionarli per questo italia ognuno ha le sue idee poi qualcuno dice che italia gli ha sterminati semplicemente per la frase famosa di caifa il sangue di quest'uomo ricada su di noi e quindi pagate quello che disse quello la 2000 passa anni fa però ripeto io mi auguro che alla fine di tutto sto mascello visto come si sta comportando l'europa l'italia dica signori miei sapete cosa c'è noi usciamo dall'euro ci alleiamo con russia e cina e facciamo le nostre belle esportazioni con loro riequile rialziamo la nostra economia e voi vi arrangiate già quando ci fu l'euro l'apoteosi è stata un marco uguale un euro allora la lira l'euro era un 1936,27 lire il marco era sotto i mille le mille lire il valore di un marco era intorno alle 970 980 lire mi spiegate perché la germania si è permessa di parificare il marco che valeva la metà dell'euro e nessuno ha detto niente ha detto va bene c'è la merca sta facendo quello che non è riuscito a fare italia senza fare una guerra ci rendiamo conto e nessuno dice niente va bene tutto come una banca lì che per stare milioni su milioni come un'aziendina magari chiede un'aiuto allo stato l'affondano cioè e io vedo anche sta situazione qua vedo i video di sarenka che parla di david ike e mi preoccupo perché a parte il discorso che fece roffeller nel 2016 che disse chiaramente che la popolazione mondiale va dimezzata e siccome roffeller è dentro quel gruppo di persone che vogliono governare il mondo e vogliono schiavizzarci tutti andate a vedere i video di sarenka parla di tomy blair parla della famiglia imperiale inglese imperiale chiamiamola come monarchica inglese eccetera riprendendo david ike e lei io ho provato a parlarne con i miei amici qua del lago cosa vuoi che sia sono tutte balle deve fare un po di visualizzazioni quindi vi racconta queste puttanate qua eccetera visto le puttanate che dice coronavirus spiegatemelo no perché in 50 in 50 anni di vita una roba del genere non l'ho mai vista questo è solo l'inizio hanno intenzione di impiantarci il microchip nella manina che così vai vai in banca fai il microchip tic vai al supermarket tic con la manina addirittura vogliono impiantarcelo nel cervello il microchip così almeno diventiamo dei robottini no dal microchip così non vai neanche a scuola perché devi andare a scuola ti mettono un microchip in cui c'è tutto tutte le nozioni l'astrofisica diventi diventi laureato già sette anni perché ti mettono il microchip che ti fa diventare super intelligente controllato da loro che magari premono un tastino che ti dice ammazza tutti e tu vai in giro ammazzi tutti proprio perché non sei mai eh infatti lei in uno degli ultimi video ha detto attenzione che magari quelle persone che dall'oggi al domani prendono e esterminano la famiglia o vanno in una scuola uccidono bambini così a caso eccetera magari è proprio perché hanno quell'input che gli viene gli viene dato eccetera attenzione che non sia anche quello poi vabbè sui vaccini sta raccontando varie cose che non sono tanto belle purtroppo il vaccino comunque serve perché io vedo la bebevio che purtroppo non ha fatto quel tipo di vaccino e meno male che lei è è forte riesce comunque a essere una campione ma prendete una persona normalissima che non ha le capacità sportive di una bebevio e che si ritrova così perché non ha fatto il vaccino che vita fa che vita fa però purtroppo ogni ogni medicina c'ha la sua ti metta lo sappiamo benissimo che nemmeno le prendiamo meglio è non è che c'è bisogno lei continua a dirlo cercate di evitare lei era schiava della rinazzina poi piano piano si è resa conto che è vero che ti libera il naso e riesce a dormire la notte ma il giorno dopo sei ancora raffreddata era ancora raffreddata e fa un raffreddore mi passa in tre giorni se non uso la rinazzina ce ne mette 15 certo riesco a dormire tutte le notti però il giorno dopo sono ancora col raffreddore e sono interessanti se si suoi video è su su quello che dice devi dai che per di più ripeto trovano riscontro in quello che sto vedendo trovano riscontro in quello che sto vedendo siamo rintanati in casa come degli schiavetti poi ci sono i fenomeni che dicono non ce ne frega niente noi usciamo lo stesso e poi sono intubati una ragazza che ha postato figu anzi no una ragazza l'hanno intervistata ha detto figurati a 25 anni mi tocca stare in casa al sabato sera ma siamo matti per una cosa che tanto colpisce solo gli anziani e poi ha fatto vedere che ci sono dei ventenni che sono intubati anche loro un'altra faceva la fenomeno anche lei che diceva io esco io faccio io su io giù però non puoi e io sono preoccupato perché come sarenca spesso e volentieri dice attenzione che in molti film in molti fumetti molte cose antecedenti a fatti che sono poi successi tra cui anche le torri gemelle facevano vedere quello che sarebbe successo c'era un fatto vedere proprio un topo addirittura un topolino ha fatto che in un topolino c'era le torri gemelle o in un simpson adesso non mi ricordo era un fumetto hanno fatto vedere le torri gemelle ed era una cosa di anni prima anni antecedenti alle torri gemelle quindi è preoccupante e al che mi è venuto in mente un fumetto che lessi in un intrepido in qualcosa di simile almeno 30 anni fa forse anche di più praticamente dopo una guerra pseudonucleare avevamo buttato delle bombe tra virgolette intelligenti che era naturalmente essendo tipo atomica però non era proprio era una cosa che spargeva in giro questo virus che colpiva tutte le persone sessualmente attive quindi quando arrivavi alla maturità sessuale c'era in aria c'era nell'aria questa cosa qua ti prendeva morire all'istante e c'era il dialogo tra due ragazzini che erano rimasti fa che bello siamo che bello tra virgolette però diceva siamo liberi non ci sono genitori noi non possiamo fare quello che vogliamo basta scuola basta qui basta su basta giù l'altro che aveva più o meno la stessa età di quel ragazzino lì stava iniziando ad avere le prime turbe tra virgolette fai ma il sesso non ci sono cioè siamo piccoli siamo giochi e no ma ci sono le ragazzine di 11 12 anni e così così come ha detto così è iniziato a soffoco 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 e morto e a quel punto è apparso una persona adulta po cicciotta eccetera e gli dice al bambino perché me lo ricordo proprio perché mi aveva colpito particolarmente sta cosa qui della che gli dice al bambino gli chiede come mai tu sei vivo cioè sei sei un adulto eccetera lui gli spiega sai cos'è un eunuco e poi dopo la storia finisce finisce così se vuoi te lo spiego ma non è stato a spiegarlo e la storia è finita così c'era il the end ecco pensate se anziché un coronavirus dovessero spargere una roba del genere moriamo tutti restano solo bambini dai 12 anni in giù per la felicità di quelli di quella che lei definisce arconti rettiliani che amano appunto mangiare i bambini eccetera adesso andate a vedere un film l'altro giorno che è la continuazione di shining adesso non mi ricordo più il titolo comunque il proseguimento di shining e in questo film c'è proprio una scena particolare che non vi dico perché se volete andare a vedere il film non vi dico nulla però l'ha lasciata un attimino attonita perché è una scena abbastanza brutta di un di una cosa che fanno ecco non voglio andare oltre però ripeto sono preoccupato perché non vorrei che questa è solo la prova hanno fatto una prova con lo scarsi virus non vorrei che tra un anno ci mandano un virus ancora un po più potente tra un anno perché ripeto roffeller e tutta la combricola di personaggi che gli ruotano attorno nel 2016 hanno detto la popolazione mondiale va dimezzata siccome l'altro giorno stavamo parlando gli ho messo la pulce all'orecchio a al pronosticatore perché ogni tanto io e lui dialoghiamo e gli avevo fatto presente questo fatto qui però gli ho detto guarda che mediamente per ogni persona che muore 2 ne nascono e allora lui cosa fate ha andatolebito a vedere nasci c'è c'è un sito in cui appare proprio l'elenco delle persone vedi proprio tutte 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 quelle persone le persone che nascono e persone c'è scritto nascita e morte e vedi proprio e vedi proprio la differenza c'è è proprio un uno muore due nascono uno muore due nascono uno muore due nascono quindi capite che se questi vogliono portare entro il 2030 agenda 2030 andatela a vedere trovate su internet eccetera vogliono portare appunto la popolazione un miliardo siamo 7 milioni 7 miliardi e tre di con 7 miliardi e tre io penso siamo anche 8 o 9 però non è così semplice però attenzione perché io ripeto non vorrei che questa sia solo la bisaglia spero di sbagliarmi spero di sbagliarmi spero che sia perché l'anno sesto hanno fumesto allora per quello addirittura sarenka nei suoi video parla di una possibile terza guerra mondiale per il 2025 uno dice vabbè ora del 2025 vediamo cosa succede però se queste sono le avvisaglie signori miei io ripeto essendo diversamente giovane avendo vissuto un attimino di più una situazione del genere anche quando stavamo male non l'ho mai vissuta e adesso che lo ripeto dovremmo essere felici abbiamo tutto abbiamo gli smartphone abbiamo il computer abbiamo nefi sky prime prime mica prime amazon mica amazon di tutto di più e non abbiamo nulla alla fine della fiera non abbiamo nulla siamo qua legati a un filo che boh e servi di di una potenza superiore che fa di noi delle marionette e si diverte a giocare a creare i virus a fare i virus a a diffondere virus a decidere ma oggi cosa facciamo massiva facciamo questo facciamo quello facciamo quell'altro lei continua a dire che noi siamo io infinito no bisogna uscire andare nelle però purtroppo tu vivi qui e anche se vai nell'infinito devi comunque sotto non vivi nel se vivi nell'isola prendi vai a vivere con la tua compagna nell'isola deserta con tutte le libidini di questo mondo quindi sei lì o nel faro come facevamo vedere in scusa ma ti chiamo amore vai a vivere da solo nel faro tu e la tua donna ti pagano per stare nel faro c'hai tutte le tue cose sei lì con la tua donna bello tranquillo in quattro gatti e stai bene ti isoli e allora si puoi puoi vivere bene ma se vivi nella società devi un attimino essere camaleontico restare te stesso cercare di farti accettare per quello che sei però cioè lei continua a dire cercate di non cambiare per gli altri se non vi accettano non diventate come gli altri però è facile dirlo ma molte persone pur di farsi accettare soprattutto quando si è piccoli soprattutto quando si è piccoli uno cosa fa cerca di stare nel gruppo dove c'è il gli elitiani diciamo con le litze eccetera non va nel gruppo degli emarginati e quant'altro proprio perché però magari per farlo cosa fa snaturazzo se stesso non è bello non è bello io come fortunatamente mi accettano per come sono anzi quando non mi faccio vedere si incazzano pure perché gigi non esci più adesso non esco più nel vero senso della parola ma è d'altronde dobbiamo abbiamo sta cosa qui per di più qualcuno ha detto che ne avremo fino a metà maggio forse per metà maggio ne usciremo minchia mancano due mesi cioè la gente in casa due mesi non ci sta cioè già scleravano a starci una settimana cioè se mi dicono che fino al metà maggio non si può uscire cioè io vabbè lavoro da casa i video li faccio da casa la spesa la faccio una volta alla settimana prendo quello che mi serve per una settimana in dieci minuti un quarto d'ora la faccio torno indietro il supermercato dove vado non è mai affollato perché siamo un paesino piccolino quindi non è che vanno e poi non vado al sabato quindi che poi oramai non vuol dire perché sono tutti a casa quindi però ripeto non lo so i giovani come come la prendono a stare forever in casa è vero che continuano a postare è arrivata la nuova serie di netflix è arrivata la nuova serie di sky è arrivata la nuova serie fine vita sociale adesso che potrebbero starsene in casa belli tranquilli a vedersi tutte le serie televisive che vogliono non posso stare in casa soffoco sto male boh valli a capire i giovani poi un'altra cosa che diceva giustamente sarà nel suoi video è che stiamo diventando tutti tecnologici no che esci sei in compagnia un tavolo e sono tutti su a mandarsi il messaggino quello l'ho già detto un sacco di volta io quando esco col quando uscivo perché oramai prima adesso si sta cercando di riabilitare perché vuole tornare al cento per cento ve l'ho detto ho fatto un'operazione brutta 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 e quindi sta riprendendosi adesso negli ultimi mesi stava e quindi uscivamo meno infatti si è anche scusato mi ha detto gigi scusa mi sei detto no figurati quando uscivamo io e lui andavo a mangiarci la pizza poi andiamo a leppi facevamo un po gli scemi con le ragazze con le bariste le altre ragazze perché tanto più fatto potrebbero essere tra virgolette le nostre figlie quindi non è che scherzi ridi però cioè purtroppo devi anche renderti conto che non hai più vent'anni anche se cerchi di restare giovane e quindi passevamo delle belle serate però lo smartphone lo tiravo fuori giusto per vedere i risultati delle partite poi lo mettevo via perché magari avevamo fatto la scommessina o che cosa e gigi mi guardi cosa sta facendo a no gigi ci penso io a guardare cosa sta facendo a quella lista vincendo allora abbiamo preso appunto messo via lo smartphone fine della della del cinema ma io vedo la gente che invece di che gli manda il messaggino all'amico che ce l'ha di fronte potrebbe parlare no messaggino poi o se no sono lì su a guardare un messo il like o se no gli rompe le balle all'altro suo amico non mai messo il like alla mia foto come ti sei permesso cioè io mi sono sentito dire gigi non mi hai messo il like alla mia foto ma io non è che vado su instagram tutti i giorni io c'ho novecento e passa novecento profili più o meno che seguo tutte le gnocche mi piace la gnocca e quindi ho le gnocche quindi quando io entro nel ogni tanto nell'instagram a parte i diecimila messaggi del pronosticatore che ogni tanto c'ho le mie cose da fare perché sennò io e lui stiamo a messaggiarci per due ore e io invece dovrei fare altro infatti ognuno glielo ho detto guarda non è per tattiveria ma è perché ho da fare comunque niente io vi saluto vi ringrazio quello che dovevo dire l'ho detto fatemi sapere cosa ne pensate voi di tutta questa situazione io ripeto ho una paura che questo sia solo questo sia solo il principio come diceva la mune la mummia quello l'ha la morte soltanto in principio non vorrei che questo sia solo il principio della fine e di quello che hanno intenzione di fare sti personaggi di cui parla appunto davidai che sarane sta facendo la portatrice sana di conoscenza detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao ciao